Federica Sciarelli lascia chi l'ha visto punto interrogativo la donna in questione presentatrice da ormai molti anni di questo programma tv sarebbe, ripeto, sarebbe, sto utilizzando il modo condizionale sarebbe tentata di lasciare il programma in questione che dopo tanti anni di tempo la vede come indiscussa conduttrice dello stesso dopo il caso di Denise Pipitone, di recente infatti si era aperto il caso perché molto probabilmente la madre Pianamaggio avrebbe ritrovato la figlioletta per il fatto che ci sarebbe una ragazza che vive in un altro paese, non in Italia la quale sarebbe fatta avanti e proprio Federica Sciarelli avrebbe ipotizzato una sua uscita proprio dal programma in questione sarebbe più, diciamo così, pronta per affrontare un eventuale iter politico da come si legge sul web un percorso politico che la vedrebbe come protagonista piuttosto che essere la conduttrice ancora di chi l'ha visto beh, questo dunque sarebbe quanto vi ringrazio in primis per la visione in secondis per l'ascolto di questo video di oggi iscrivetevi al canale, commentate e Naruto Italiano si chiama al prossimo video